Arrivati in quel didorno, Sugar si sta cagando Grave la situazione, attualmente è gravissima, sono dei panettoni da 20 metri 48 euro, due piloti, grazie a questo adesivo qua Due rider, i-track, i-track più difficili, penso Ci cambiamo, ci cambiamo e siamo in moto Allora, la situazione che sono le 3 di pomeriggio Quella merda di moto di TM non è partito per tutta la mattinata Alla fine abbiamo preso una candela al market che c'è qua di moto di Dorno E con 8 euro abbiamo sistemato il cazzo di problema Che ci ha fatto perdere due ore e mezza, tre? Due ore e mezza E niente, adesso mettiamo la GoPro sul mio casco e poi entro in pista io Raga, salti da paura Ho chiuso due salti e ho superato la penna Speriamo di non ammazzarci Andiamo Oh Merda Grazie a tutti. Oh shit, here we go again. Oh, Cristo. No, God, please, no, no! Hai capito che suona? Si accende più giù. Il Jay ha fatto suonare l'antifurto generale da un quarto d'ora che suona. E dietro lui, non parte più la moto. E mi si è spenta la moto prima in mezzo alla pista. E poi, niente, me l'ha fatta portare via la mano. Abbiamo fatto anche qualche altro giro senza riprenderci. E siamo presi delle belle sventole, atterrando. Non siamo ancora caduti, stranamente. Allora, togliamo. Parte 2. Parte 2, che prova. Io ne vado. Io ne vado. Ti vado a schiattare! Si vuole! Si vuole! Porca putana! Terzo giro nella pista grande. Perfetto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo ragazzi è l'episodio finale del TM 125 due tempi patchwork. Finisce qua la stagione il TM sulle piste da cross dal primo episodio. Al primo e unico episodio. Con Rollins posteriore schioppato. Schioppato, è diventata un Harley Davidson. Guarda che, guarda che cazzo è diventata. Ecco questo qua il danno, l'ammortizzatore ha grippato, cos'è? Che pezzo è quello sotto? Ha grippato contro il leveraggio sotto. Non lo so, ha grippato tutto il leveraggio, l'ha graffiato completamente. E la moto è ridotta così. È arrivata a fondo corsa. E la moto è diventata un chopper. Guarda te, tutta italiana, un pezzo dopo pezzo. E poi questa è la fine che si fa. Non scherzo, comunque è colpa nostra che non abbiamo controllato, non lo so, non abbiamo tarato sicuramente le sospensioni per la pista. E questo è il danno, signori. Ce ne torniamo a Franti, a casa. Almeno iscrivetevi al canale, mettete un like, fateci felice. La moto la lasciamo qua. La moto la abbandoniamo. Il primo che viene a Dorno, signori, la ritrovo. Esatto, a Dorno ci ha costato un TM, l'ingresso e le madonne. Almeno iscrivetevi al canale, sennò veramente io non giro più in moto. Un like, un'iscrizione. Non giro più in moto, veramente, sennò. Iscrivetevi, mi compro il KTM e vado senza problemi. Grazie a tutti.